ciao amici oggi un video veloce dopo la serie dedicata al viso per ricordarvi che potete finalmente accedere al video corso del metodo visolift l'ho creato per mostrare esattamente come ringiovanire il viso in modo naturale in poche settimane e soprattutto senza ricorrere a creme costosissime bisturi punturine strategie invasive ma basandosi sul principio della tonificazione della muscolatura del viso che mantiene la pelle tesa e le forme toniche il mio metodo serve a ringiovanire tutte le parti del viso e ottenere un visibile miglioramento di tutte le zone specifiche la fronte per le rughe orizzontali gli occhi per risollevare la palpebra e cancellare le rughe intorno agli occhi gli zigomi per ridare tono e volume al viso le guance per eliminare le grinze e dare freschezza al volto le labbra per dare volume e togliere il codice a barre il mento per ridurre il doppio mento e ritrovare l'ovale del viso e il collo per cancellare le righe le pieghe le grinze che mostrano l'età siccome ne sto parlando da un po e ho ricevuto molte domande ho pensato di rispondere con un video alle più frequenti che magari possono essere utili per tutti ma cosa contiene esattamente il video corso del metodo viso lift il video corso contiene dei video moduli che spiegano i concetti base per il ringiovanimento della pelle del viso la descrizione di tutti i muscoli del viso coinvolti negli esercizi di ringiovanimento tutti i benefici del metodo viso lift e come ottenerli al massimo i set segreti esclusivi che rendono questo corso così speciale come eseguire gli esercizi nel modo più corretto e il video con la sequenza degli esercizi da svolgere uno per uno con i tempi ritmi giusti in più una serie di bonus aggiuntivi che ho inserito gratuitamente e quando è la scadenza per acquistare non c'è nessuna scadenza ma il video corso rimane in offerta di lancio per 5 giorni poi il prezzo aumenterà e toglierò anche i bonus in regalo bonus in regalo e quali sono sono tre dei miei ebook più richiesti che contribuiscono a diventare più belli con l'alimentazione depurati con la dieta detox per eliminare le tossine con un effetto di pulizia e ringiovanimento della pelle frullatoni risolutivi con le mie migliori ricette di frullati ricchi di antiossidanti vitamine minerali per una pelle più idratata e luminosa colazioni light con le ricette di tante colazioni che danno i nutrienti di cui la pelle ha bisogno fin dal mattino e per i primi 25 acquisti in omaggio il mio libro manuale moderno di estetica olistica in versione ebook con i rituali di bellezza olistica e le ricette naturali per tutti i tipi di pelle ma come funziona il programma è davvero semplice dopo aver ascoltato la parte introduttiva si accede al video corso dove vi farò vedere gli esercizi e sarà come eseguirli insieme guardando il video il giorno dopo giorno il viso si tonifica e ringiovanisce e che differenza c'è con gli altri programmi là fuori ma che io sappia non esiste niente di simile per questo ho voluto crearlo io ce n'è davvero bisogno in ogni caso il mio corso si basa su sette principi molto particolari che ho chiamato sette segreti esclusivi che rendono questo training veramente speciale sicuro ed efficace al cento per cento ci sono altre spese che mi servono per fare tutto assolutamente no una volta acquistato il corso è tutto il necessario per iniziare a fare i tuoi esercizi di tonificazione e puoi guardare il video corso ogni volta che vuoi e quanto tempo devo dedicare a questo metodo per avere un viso giovane vorrei dedicarti una ventina di minuti non serve di più ma posso pagare col bonifico non ho la carta sì in questo caso mi scrivi una mail e io ti mando tutti i dati l'importante se vuoi accedere a questa offerta è che sia entro la scadenza e poi come accedo al materiale al video corso una volta effettuato l'acquisto riceverai i dati di accesso con login e password e potrai accedere al video corso ogni volta che vuoi sul tuo computer o anche sul tuo smartphone ma alla fine per chi è adatto questo corso ma come per chi è adatto a tutte le età per mantenere il tuo viso tonico se sei giovane per fare prevenzione se hai raggiunto i tuoi primi 40 anni e per ringiovanire il viso se i segni del tempo sono già evidenti e quali risultati posso aspettarmi giorno dopo giorno vedrai che il viso si rimpolpa la pelle si distende e le palpebre si risollevano l'ovale del viso si ridefinisce e anche il doppio mento quel brutto antipatico si riduce notevolmente ma se io non sono pronta per iniziare subito adesso un sacco di impegno un sacco di problemi per la testa ti consiglio di approfittare dell'offerta subito e poi iniziare appena puoi nessuno ti corre dietro ma quando sei pronta inizi e ottieni risultati esiste una garanzia certo esiste la mia garanzia speciale che trovate nella pagina dedicata al corso andate a vedere e se non sono convinta può essere che tu non sia convinta adesso ma io sono convinta che appena inizierai a fare gli esercizi ti convincerai perché vedrai la differenza del resto al prezzo di una crema idratante che finisce subito hai un video corso che dura per sempre è tutto nel link dedicato andate a vedere fatemi sapere cosa ne pensate scrivetelo come sempre nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video sempre più trendy sani e belli con simona vignali naturalmente ciao ciao